Mi è stato chiesto di recente, in merito al mio DVD, quale è il brano a me più caro e cosa suscita. Ok, vi svelo un segreto. Il brano a me più caro è la Sarabanda, esso è diviso in due parti ed io lo intendo come se fosse una ninna nanna. Se pensate a un bebè che dorme, miglior brano celestiale di sottofondo non può esistere. E se all'occorrenza si dovesse svegliare, la seconda parte diviene il richiamo alla pratica onirica per il piccolo. La Sarabanda è il cuore della suite e in esso vi è la forza, la magia e il senso di rigenerazione che l'uomo riceve nei suoi momenti di relax, nei suoi momenti di riposo. Mi piace pensare che come l'uomo segue il suo cuore nelle decisioni, la Sarabanda ci porta in uno stato di totale libertà nel quale poterci esprimere. Nella suite ho individuato tre spiriti guida. Il primo, la volontà di ricercare. Il secondo, il valore dell'esperienza. Il terzo, il senso comune di unione. La suite diviene così una metafora della vita, ma di questo ne parleremo poi. Giulio Castricat Enunziatina è disponibile, chiamami o scrivimi. Ciao e al prossimo episodio.